E' lui il re dei difensori interisti e non poteva essere diversamente. Giuseppe Bergomi, milanese doc, per vent'anni ha vestito la maglia nerazzurra. Lo zio, questo il soprannome con il quale lo hanno sempre chiamato i compagni, ha centrato un record di presenza ineguagliabile. 758 tra campionato e Coppa e ben 28 i gol al suo attivo. Difensore arcigno, deciso e moderno, Bergomi ha sempre fatto della correttezza in campo e della lealtà sportiva le sue caratteristiche professionali. Amato da compagni e allenatori, è stato per vent'anni un pilastro della linea difensiva nerazzurra, un giocatore che tutti gli avversari hanno temuto e rispettato. Tante le vittorie centrate da Bergomi con la maglia dell'Inter. Uno scudetto, tre Coppe UEFA, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.